Torna il rombo dei motori, torna la cronoscalata svolte di popoli giunta quest'anno alla 57esima edizione. L'appuntamento è fissato il 9, 10 e 11 agosto e anche quest'anno avrà importanza tricolore, essendo valido quale trofeo italiano o velocità montagna nord-sud. Le iscrizioni si sono ufficialmente aperte oggi e andranno avanti fino a tutto il 5 agosto. Per iscriversi bisogna riempire un modulo reperibile sul sito internet ufficiale www.svoltedipopoli.it. Anche quest'anno a organizzare l'evento sarà l'ASD Svolte di Popoli, spalleggiata dall'Associazione Quelli delle Svolte, oltre che da ACI, ACI Sport, i comuni di Popoli di San Benedetto Imperillis, la provincia di Pescara e l'Aquila e la regione Abruzzo. I piloti si daranno battaglia lungo i 7,5 chilometri del tradizionale percorso in salita con partenza da Popoli e arrivo in prossimità del Bivio per San Benedetto Imperillis. La competizione motoristica avrà inizio nel centro storico di Popoli con le verifiche tecniche e sportive in programma il pomeriggio di venerdì 9 agosto e proseguirà poi in serata con la presentazione ufficiale della 57esima edizione. Nella mattinata di sabato 10 agosto sarà la volta delle prove ufficiali su percorso con la consueta doppia manche, mentre domenica 11 alle ore 9.30 prenderà il via la gara vera e propria. Alla competizione tricolore in salita sarà abbinata la parata di auto private storiche stradali a cura dell'Associazione Rombi del Passato Autostoriche con la riproposizione del format che coniuga la velocità moderna all'eleganza d'epoca.